Allora, riprendiamo un po' il discorso, consigliere, dobbiamo aggiungere qualcosa. Sì, il tavolo poi che andiamo a creare, per il quale è nata poi anche questa discussione, noi lo vogliamo fare in questo modo. L'idea quindi parte dalla politica. La politica, peraltro, parte dal basso, parte dal caso concreto, senza andare a parlare ovviamente delle motivazioni e quant'altro, ma cerca di dare, diciamo così, e fare una proposta alternativa. Noi come partito metteremo a disposizione le strutture delle nostre sedi provinciali, sia di Padova che di Treviso per ora, quindi questo a livello veneto. Abbiamo già contattato dei giuristi, quindi avvocati, professori universitari e magistrati. Abbiamo già ricevuto delle buone, diciamo così, adesioni. Io credo che nel giro di una decina, dieci, quindici giorni dovremmo riuscire a chiudere questa composizione con una prospettiva poi di iniziare qualche seduta già dal mese di marzo, metà marzo, giù di lì. Quindi ci state lavorando seriamente, insomma, quello non è una... Beh, assolutamente, anche perché voglio dire, se gli esempi ci sono, le commissioni poi non riescono a produrre nulla, vediamo se questo tipo di proposte che poi partono dalla base e che partono da giuristi che in qualche modo possono essere magari così anche parte attiva, vediamo se possono dare magari così una mano e proporre una proposta da presentare poi anche direttamente in Parlamento. Se non accoglieranno questo tipo di tesi, potremmo anche pensare di fare una vera e propria sottoscrizione popolare per presentarla in questo modo. Chiarissimo. Avvocato, cosa ne dice avvocati entrambi di una cosa del genere? Assolutamente d'accordo, soprattutto perché accanto all'esigenza di smettere di fare depenalizzazioni e provvedimenti che sono delle amnistie cambuffate, come la norma sulle rilevanza del fatto entrato in vigore l'8 aprile scorso, è il momento di dire non solo non è punibile chi si difende in casa e nell'azienda o nello studio professionale, ma l'uso della difesa in quei luoghi è legittimo. Ripeto, è un rovesciamento culturale, anche perché ricordo che sul piano civile se si viene assolti perché c'è la causa di giustificazione della legittima difesa e passasse questa tesi, comunque si è tenuto ad esercire il danno se il danno vi è stato. Perché un conto è essere assolti, un conto avrà avuto una causa di giustificazione. Sono due cose che l'una non esclude l'alta. Quindi famosi 325 mila euro della situazione e altri. Le soluzioni che altri paesi civili, ho fatto l'esempio oltre alla Francia, della Germania e della Spagna, che dicono togliamo proprio dall'ordinamento l'eccesso colposo. Cioè se tu reagisci e lo fai per paura è sufficiente questo qui e il tuo uso delle armi è legittimo. E quindi viene meno anche la prospettiva risarcitoria. Perché qui si tratta di evitare al cittadino, oltre al danno e alla paura, anche alla beffa. Esatto, alla beffa. Questo è un aspetto rilevante. Io credo che addirittura in Germania, perché abbiamo proprio in vista di questi studi a Treviso, abbiamo avviato anche degli studi comparatistici, anche per vedere come è trattata la materia. In altri paesi. In altri paesi. Mi pare che in Germania addirittura si possa inseguire il reato che se ne va, cioè il reo che se ne va con la rifurtiva e sparare. E che il codice albanese preveda addirittura l'esclusione della responsabilità nei confronti dell'aggressore. Quindi dobbiamo imparare anche da codici di paesi dove, tra l'altro, la Cassazione è piena di ricorsi che non vogliono essere trasferiti alla pena, ad eseguire la pena nei paesi della Serbia, perché sono un po' troppo severi e allora fanno le istanze per restare qui dove hanno maggiori... Comodità. C'è la riabilitazione che consente di riuscire ancora più atletici e più pimpanti. Quindi credo che la strada sia proprio di rivedere tutto attraverso questi tavoli che riportino il cittadino al centro del problema. È stato fatto così con il terrorismo quando lo Stato ha voluto, ha saputo dare una risposta. In altri casi, anche quei sequestri di persone che toccavano probabilmente anche sfere un po' più alte, quello è il discorso. C'è stata una risposta importante, se lo Stato vuole lo fa, oggi abbiamo uno Stato che non ritiene che questo sia un suo problema e siano altri valori. Esatto, allora se dal punto di vista, abbiamo visto giuridico, legale, la cosa potrebbe essere fattibile rivedendo alcune cose. Politicamente, chiedo a lei, il nostro governo ha una certa compagine, quindi non è certo maggioranza Fratelli d'Italia, Nellega, eccetera, ma ha una ben precisa posizione, tanto è vero che siamo arrivati a depenalizzare determinati reati. Secondo lei, una via percorribile, come può essere percorribile? Dareste un sostegno anche politico? Perché poi tutto si butta in politica, ovviamente, i cittadini non lo sanno bene. Se è fattibile sotto un certo profilo, poi arriviamo... Alla fine la politica serve a questo? Esatto, dovrebbe servire. Dovrebbe servire, no? Siamo tutti d'accordo che siamo davanti ad uno Stato che non è in grado di garantire la sicurezza, dei suoi cittadini, non solo, ma si accannisce contro quei cittadini che non si arrendono all'idea di morire da vittime. Quindi noi Fratelli d'Italia continueremo a fare la battaglia perché la difesa sia sempre legittima, lo faremo insieme ai nostri alleati naturali, tra cui anche la Lega Nord, lo stiamo facendo anche in tante amministrazioni locali, lo stiamo facendo in Regione Veneto, lo stiamo facendo in tante altre regioni e quindi lo faremo anche in Parlamento, in tutte quelle sedi deputate proprio per fare questa battaglia. Per far capire i cittadini, secondo lei ci sono margini realisticamente, possibilità oppure no? Perché mai i cittadini sono abituati? Sì, c'è il margine nel momento in cui la sovranità popolare ritorna nelle mani degli italiani e si dà il loro diritto di ritornare a votare e votare una maggioranza che sia davvero legittima, cosa che oggi purtroppo non stiamo assistendo perché Renzi è il terzo premier che non è stato eletto dagli italiani e quindi aspettiamo fiduciosi che la sovranità popolare con il voto faccia il suo seguito e gli italiani votino un centro-destra compatto, un centro-destra che ha le idee ben chiare soprattutto su questi temi. A livello territoriale, secondo lei cosa è? Rialegciamo un attimo il discorso che faceva l'Avvocato su ridare dignità, ridare dignità sì ai cittadini, ma dare anche le forze di pulizia che vale anche per i territori fuori di comuni, diciamo capoluogo di provincia. Dico questo perché quando noi andiamo a manifestare tipo Vicenza, Costacchio ci troviamo le forze sindacali con noi che vanno sul palco a dire questo sistema non funziona, questa è un'anomalia su un paese democratico, il governo deve capirle queste cose, ci sono gli stessi poliziotti che vengono a manifestare con noi davanti alla prefettura, a Vicenza, in qualsiasi altro posto, però vorrei concludere un altro messaggio positivo, la politica si deve prendere carico di fare questa cosa, fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia sono una coalizione forte, devono andare in governo per cambiare queste leggi, è l'unica via riuscita, questo governo, in mio modesto parere, non riuscirà a cambiare nulla, non riuscirà a cambiare nulla, ci sarà sempre l'eccesso di legittima difesa, ci saranno ancora omicidi, ci sarà insicurezza e chiudo, però dico ai cittadini pensate in modo positivo e abbiate fiducia, in qualche modo riusciremo a risolvere queste temati di questi problemi. Allo stato attuale, anche lei è avvocato, quindi questa domanda era a giro un po' ai legali, ma anche un po' al sindaco, cosa può fare il cittadino? Perché abbiamo visto le reazioni, c'è un investimento pazzesco in termini economici in antifurti, tutti questi sistemi qui però sono sempre spese, c'è chi non se lo può permettere, come tanti pensionati che non possono farlo, c'è chi non ha la possibilità di reagire in un certo modo, chi non ha neanche voglia di incominciare a pensarci, solo stress e subisce, ma concretamente adesso che cosa ha il cittadino? Che cosa ha in mano? Fino a dove può muoversi? Questa è la domanda che giro a lei, come anche ad altri. A parte che poi ognuno di noi nella situazione… Lasciamo stare a situazione concreta perché… Nella situazione sì sì… La mente è fredda. …immagino che sia difficile poter anche pianificare, quindi la pianificazione non la puoi fare, è chiaro che ci sono strumenti che ti possono consentire una maggiore sicurezza nella tua abitazione, ma di fatto a di là di un'attenzione che il buon padre di famiglia può avere con la propria famiglia, ripeto, e con la propria abitazione, credo ci sia gran poco. Stare molto attenti poi al concetto di proporzione tra l'offesa e quindi il pericolo imminente che sia… Pericolo attuale, pericolo attuale, pericolo attuale, e che sia in quel frangente è difficilissimo, è difficilissimo, io non vorrei trovarmi nella situazione, diciamo così, ma credo sia molto difficile. Chiaro che io la penso in un modo, c'è chi non la pensa magari come noi, ma credo che siamo ormai la maggioranza a pensarla in questa maniera. se mi entra qualcuno in casa, penso prima a mio figlio e a mia moglie piuttosto che a chi mi è entrato. Ma che poi tra le proposte potrebbe essere interessante anche uno sgravio fiscale per chi fa questo tipo di investimenti. Eh sì. Questo c'era stato anche come proposta, ma poi andiamo sempre però a vedere chi la fa, la proposta, chi la porta in Parlamento e chi eventualmente la vota. Se ci dovessimo trovare noi in questa situazione è chiaro che andremo anche a sistemare questo tipo di situazioni che ritengo assolutamente di primaria importanza. Ci sono delle soluzioni concrete che è quello ad esempio di consentire, su questo potrebbero forse intervenire gli enti locali, delle forme di finanziamento per gli esercizi commerciali che si dotano ad esempio di contratti con istituti di vigilanza. Parlo di guardie giurate, non la singola guardia giurata, ma che fanno un servizio che va dalla televigilanza alla ronda effettiva. Un altro aspetto però a cui dovrebbe viceversa intervenire il governo dovrebbe essere quella o di supportare le spese legali delle vittime di questi reati o quantomeno di consentire, ci sono varie forme sul punto, la detastazione delle spese legali sopportate per difendere. Quindi anche questo sarebbe un sistema per colmare quella lacuna tra Stato e suddito che invece io ritengo che vada rovesciata a favore di una soluzione, di uno Stato liberale che deve dire tutte le volte che tu cittadino ti devi difendere sarà la controparte che dovrà dimostrare che è entrata in casa e così via. Cioè noi dobbiamo rovesciare culturalmente questo meccanismo. Non è più la graziosa concessione di uno Stato sovrano che dice sei tu che devi provarmi, che hai reagito nei limiti che ti erano consentiti. Ma è esattamente il contrario. Ecco Sindaco, secondo lei è possibile che l'amministrazione comunale appunto faccia qualcosa? C'è chi si è attivato con delle assicurazioni cammierate? Che cosa ha in capo al Sindaco come possibilità? In realtà questo tema, le amministrazioni comunali dove hanno potuto si sono attrezzate, c'è chi ha messo le telecamere, c'è chi ha potenziato il servizio di polizia locale convenzionando, assumendo vigili, facendo appunto una presenza maggiore. Ci sono tante situazioni, però il tema di fondo è quello che cercavamo di dire, sono tutte cose che possono comunque aiutare, ma se poi alla fine non c'è lo Stato che si riprende il suo ruolo, quello di tutelare i cittadini, sono tutti discorsi che modifichano in parte quella che è la vera questione che abbiamo affrontato questa sera. Anche perché mi ricollego a lui, anche perché non spetta all'amministrazione occuparsi, perché ha tanti di quei problemi. Un'amministrazione, ne ho fatto parte in un paese vicino a Treviso per la Lega e credo che ci siano tante delle questioni da risolvere, che occuparsi di ordine pubblico sia forse l'ultimo problema, perché c'è proprio una struttura che dovrebbe pensarci. Il problema è proprio che non devono girare né Audi gialle, né Verdi, né Coso, sul territorio, perché è inutile nascondersi dietro un dito che questa realtà che stiamo affrontando 20 anni fa non esisteva, non avevamo il furto capillare per casa, per casa, non c'era. Quindi qualcosa di sociologicamente diverso è accaduto. Avevamo la mano al Brenta che furiava l'altro, ma... Avevamo dei maniero che imperversava, avevamo Calvi che rubacchiava in banca, avevamo qualche lazzarone in Montedison, però non c'era, le porte erano aperte, le biciclette le ritrovavi, oggi c'è qualcosa che è successo ed è, proprio come diceva il collega prima, non è lo strumento, era studiato per un incontro tra il Cavaliere Bianco e il Cavaliere Nero, lui mi ha attaccato, io mi sono difeso. Quella era la struttura del reato del 52, che non ha niente a che vedere con gli strumenti... Con gli strumenti di oggi, di un'invasione su tutti i territori, per cui gli strumenti devono essere feroci, anche a costo di rinunciare alle privacy, perché se non posso neanche mettere una telecamera, perché dà sul marciapiede dove il mio vicino mette la bicicletta e vado in... mi creo problemi perché la telecamera che dà sul luogo pubblico non la posso mettere, cioè non posso affidare a questi strumenti solamente l'occhio, perché ci vuole la manetta e la manetta sicura. Poi discuteremo, come Beccaria insegnava, di come recuperare queste figure, però intanto mettimi la società al sicuro, ed è questo che è il primo problema e la Lega credo che si sia impegnata in questo in maniera decisa e lo farà sempre di più. Oggi stiamo affrontando un problema diverso, che non è lo scontro individuale dal ladro poverino che ci sono situazioni effettivamente terribili di persone che rubano magari il pezzo di formaggio, magari nostri, però tutti delinquono però un salto statistico completamente diverso che si vede anche a posteriori con quei pochi che riescono a mettere dentro, perché sono i pochi che riescono a mettere dentro, l'impunità è al 96% se non vado errato, i furti calano anche perché la gente non li denuncia più, anche perché la gente non li denuncia più, perché va a perdere tempo, ed è quindi, dobbiamo tornare, vi svegliate che la gente è esasperata o no. Assolutamente. C'è un'altra cosa, chiedo anche a lei, perché si riallaccia, perché qui abbiamo parlato di legittima difesa relativamente al caso Birolo del Comunico Rezzola, a tutti i vari casi che sono verificati per la provincia di Vicenza, se ne sono diversi, con il discorso dell'abitazione. Potrebbe capitare anche a noi, come è successo in Germania, sempre più di frequente, in occasioni di manifestazioni di piazza, casi di violenza, quindi anche lì interviene la legittima difesa sulle donne, ho visto che sono casi sempre più numerosi di denunce, proprio relative a questa società che, come diceva l'avvocato, sta cambiando rapidamente, abbiamo questi gruppi di persone che vengono da altre realtà culturali, che non hanno rispetto della figura femminile. E quindi anche qui, se una donna dovesse reagire in modo sproporzionato, entra sempre il discorso della legittima difesa, cioè magari ha un'arma con sé perché ha paura, perché svolge un lavoro che magari deve tornare di notte alle quattro di mattina da come infermiere, eccetera, si sono già verificati i casi di aggressioni, peraltro. Anche lì la proporzione rispetto a uno che ti aggredisce, poverino, che ha 16-18 anni, come è successo in Germania e non era armato, però attenzione, potrebbe essere anche steso questo concetto, secondo lei o no? Io lo dico perché adesso il fenomeno è lì, il problema è in Germania, poi per carità bomba potrebbe capitare anche a noi, non è che... Il fenomeno è sgradevolissimo quello che poi vediamo con gli episodi. Ma quello dove state lavorando è solo all'interno dell'abitazione oppure state rivedendo un po' un discorso generale di legittima difesa? No, 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 noi lo rivediamo a livello generale, quindi anche questi aspetti saranno sicuramente oggetto di confronto. E se, voglio dire, può essere ipotizzabile da qualcuno, anche uno concetto di proporzione, quando ci si trova magari uomo a uomo, di sicuro non possiamo tollerare quando c'è magari di mezzo una donna. Per noi la donna è casomai, deve andare protetta, non certo, voglio dire, oggetto di certi episodi come abbiamo visto. No, ma io come ho visto, sono verificati, poi uno vede anche estensivamente. Siamo in chiusura, una battuta, si è avvocato Fratellone? Sì, magari se una sera vorrete dedicare, vista l'incidenza che sul piano fenomenologico, cioè del numero di processi, di denunce che ci sono alla violenza sulle donne, volentieri ne parliamo. Io pensavo quando si parlava degli strumenti da suggerire al cittadino, ma se io sono una donna e ho lo spray peperoncino in borsa, lo posso usare o quello mi chiedi danni? Perché l'ho cecato. Questa è la domanda. E se per caso ho uno stiletto in tasca e glielo infilo nella pancia, cosa devo fare? Cioè le domande che si fa al cittadino, e alla fine è questo. Quindi magari approfondire questi temi può essere un aiuto concreto, resta la regola comunque, anche se avete mezzi di difesa, se il ladro scappa, non sparategli. Io ho promosso il corso di autodifesa in tutti i quartieri, oltre 300 donne che hanno fatto il corso di autodifesa, quindi che sia lecito o no metterlo in pratica, ma che lo facciano pure, solo se qualcuno pensa ad avvicinarsi. Deve dire qualcosa? Sì, sì, sono d'accordo. Comunque, un inciso. Le violenze che stanno succedendo in Germania, diciamo, hanno sancito comunque il fallimento dell'accoglimento. Questo proprio è sancito che l'accoglienza è stato un fallimento per l'Europa e la bisogna provvedere. Quella forma. Quella forma. Esatto, quella forma. Dottor Nardo, apriremo un versante, ma magari ne discutiamo in seguito. Siamo in chiusura. Luigi ha fatto delle considerazioni proprio in chiusura, chiusurissima. Sì, andando all'estero, girando diversi paesi, in effetti lì il cittadino quando sbaglia paga. C'è la sensazione che anche per le cose banali gli fanno fare lavori socialmente utili. Il cittadino in effetti quando sbaglia paga. Questo io l'ho visto in tutti i posti dove sono stato. Sono un po' più prudente quando si dice facciamo fare, scontare la pena nel paese di origine, perché là la giurisprudenza dei vari paesi non è mai la stessa. Basta vedere quanto stiamo soffrendo per il discorso dei Maroc, che non riusciamo a trovare un accordo internazionale. Quindi sarebbe giusto, secondo me, però forse un po' più difficile. Io mi metto nei panni di colui che subisce una violenza domestica. io dico sempre che potrei andare in galera solo se qualcuno fa male alle persone a me care. Se qualcuno tenta di fare male alle persone a me care, io penso che rischio di andare in galera. Ci vado in galera, perché lì non so come reagirei. Di conseguenza il discorso di poter essere armato in quel momento, proprio perché non so come reagirei, io che è un po', insomma, sono anche una persona abbastanza controllata, non sono un gran distintivo, non so come reagirei. Quindi non so, sarei un po' prudente. Certo, prudente non come sta avvenendo adesso, che c'è una, secondo me, verso questo argomento, una scarsa scarsa, secondo me, attenzione da parte della politica. Quindi la politica è lenta nel prendere le decisioni in merito a questo. Forse non vuole. Non so cosa deve succedere per far qualcosa, non lo so. Per quanto riguarda gli aspetti propositivi, fermo restante, appunto, che speriamo che la politica si svegli, io credo che i cittadini possano creare quel controllo di prossimità. In molti paesi si organizzano i cittadini, si fanno col whatsapp, gli telefonini, si danno una mano. Il cittadino paga le tasse, perché paga le tasse. Elena, però è sempre un qualcosa, diciamo, potrebbe essere un deterrente, sapendo magari che in un contesto, se vado in un contesto, potrebbe, dico, potrebbe esserci qualcuno che magari mi segnala. Il discorso è la vigilanza privata, io sono d'accordo, per esempio, anche per famiglia, non solo da mettere a disposizione degli esercenti. Faccio una proposta, perché non dobbiamo avere in ogni paese una caserma dei carabinieri? A noi i carabinieri interessa averli per ricevere le denunce dei furti che la gente non fa o ci interessa averli sul territorio? E quindi io sono dell'idea che farei un accorpamento delle caserme dei carabinieri, perché a me il carabiniere, la polizia, a me serve sul territorio, non mi serve per fare le multe o per ricevere le denunce. Ecco, quindi io credo che in attesa che la politica si sveglia, ognuno di noi comunque nel proprio piccolo deve cercare di stare attento, essere prudenti. Ecco, è giusto che lo Stato deve difendermi, però siccome non ci sarà mai nessuna, mai nessuna pergamena di legge che previene un crimine, anche io nel mio piccolo come cittadino devo cercare di adeguarmi e cercare di essere prudente. Questo credo che sia anche un messaggio che dobbiamo dare alla gente. Perfetto, siamo allora in chiusura. Devo dire qualcosa, Sindaco? Chi vuole aiutare Birolo è la famiglia Birolo, c'è un conto corrente sul sito del Comune e concretamente può dare una mano a un cittadino che si trova nella situazione che abbiamo. Alle spese legali adesso da sostenere, quindi va bene, capiamo la situazione. Grazie ai nostri ospiti di essere qua intervenuti, di averci supportato ad affrontare questo tema. Naturalmente anche su vostra sollecitazione, speriamo che non ce ne sia più l'occasione, riprenderemo queste tematiche e poi per carità coglieremo lo spunto dell'Avvocato Fratellone, visto che dopo ci sarà anche l'8 marzo, quindi di parlare del caso di violenza alle donne, anche lì se è questione di legittima difesa o meno, ma ci sono anche altri risvolti interessanti. A voi buon proseguimento, buona serata, vi lascio alla pubblicità. Dopo la pubblicità abbiamo il nostro speciale e quindi restate ancora con noi. Tra poco.